Bella Grobby Ok 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 Allora Allora Attenzione Chi è tornato... Grazie Freak del Re Sub Bentornato Freak nella Fierix Army Bentornato bro Siamo sopra gli 800 sub Siamo a 806 sub Adesso sono un po' ballerini Li guadagno, li perdo, li guadagno, li perdo Perché ultimamente Cioè mantenere sta media Non dico se è impossibile ma quasi Capito Grobby? Pardon Ti ho letto soltanto adesso evidentemente C'hai il colore del bot L'ho scambiato col sissi a bot forse Pardon Apri il culo a quel coniglio Ah Se il signor Graves si muove Come tutti uncut Trabeva vedere gente esplode Sono contro il bullismo Sulle piccole rocce in giungla Essendo main hive Ah capito Barb Ma il punto è che Io vi dico una cosa ragazzi Nel canale uncut Ci sono programmati Due uncut al gioco Ho dovuto Ho dovuto Mettere Grazie Elvis Un'altra pallina Un'altra pallina Nella brocca Altra pallina Nella brocca Allora E ti ricordo bro A questo punto Se vuoi sostenere il canale Ed entrare anche a far parte A un Felix Army Anziché donare Basta Per poter utilizzare Le mie emote Clicca sul tasto Abbonati Abbonati Sul canale Fieri Cancat Io non so Quando uscirà questo video Sul canale Fieri Cancat Né se uscirà Effettivamente Ci sono Attualmente Più di 100 uncut Programmati Cioè che io Oggi Che è il 22 novembre Ho uncut Programmati Fino a Metà gennaio Cioè Ho due mesi Uncut programmati Due uncut al giorno Perché fosse stato Un uncut al giorno Andavamo fino a metà A metà Marzo Quindi arrivavo Primamente A season 9 Già inoltrata C'erano ancora game Della pre-season Cosa impossibile Quindi ho messo Due uncut al giorno Ma sono comunque Troppi da smaltire Non so come fare Sono disperato Nello smaltimento Degli uncut Faccio di professione Lo smaltitore Di uncut Due uncut al giorno È per forza Due uncut al giorno Ne ho programmati Fino a metà gennaio Pensa te Dovrei metterne tre Al giorno Tre al giorno Dovrei metterne Però passare da uno A tre è troppo Non ho tantissima vita Effettivamente Attenzione Vai Let's go Siamo aders contro Fizz Stiamo attenti Potrebbe farci il culo culetto 10 al giorno Eh 10 al giorno Eh sì 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 Facciamo 10 al giorno Ragazzi Ha più vita di me Giustamente lui c'è al Doran Però io ho preferito Eeeh Prendere qualcosa Che mi aiuti Nei trade E ho preso La Corrupt in Potion Ok Trovo un'ottima scelta Trovo un'ottima Ottimissima scelta Tieni Tieni No Ho messato Ho messato un'auto Attacco Uh Oh yeah Se la neve viene sotto Casa vostra No Fa il culo la neve Non può piacervi Dà soltanto fastidio Oh yeah Baby Uh yes Uh yes Ha usato anche tutte le summoner Il ragazzo No summoner smid Pur io eh Però io ho preso la kill Uh yes Baby Posso avere uno spam Di Fieric Gasby in chat Per questo orgasmata In mid lane Che ho tirato Fieric Gasby in chat Per favore Grazie Vai Ha usato tutto Il bargone Cioè Quattro pozze Mmm Vediamo quanto Ti aiuteranno Ste quattro pozze Vediamo Ma io parto Di Di una bella Doran No no Sti cazzi Andiamo così E così Cazzato nero Apriamoci ste spade Qua Grazie dello spam Ragazzi Bella Paul Bella Jackino Ciao a tutti quelli Che non ho salutato Bella Christian Che ti dà fastidio Il Fizz Eh vabbè Il Fizz Mi ha sottovalutato Non è Normalmente Sì mi avrebbe dato fastidio Ma Mi ha sottovalutato Il livello 2 Lui era l'1 E mi è stato comunque A A distanza di grab Ma avrebbe infastidito Se avessi giocato Normalmente Ecco Però Mi ha sottovalutato Il ragazzo E non si sottovaluta Il Darius Sì c'è qualcosa Da dire Che attivi Mi attive lo W In faccia Mo te lo dico io Qualcosa Oddio non ci sono arrivato Un po' più velocino Lui mi sa 340 Lui ha 335 No Ho 5 movement speed In più Voi direte È un cazzo 5 movement speed Dai in realtà Vuol dire che So più veloce Io se li inseguo Quindi insomma Eh Tardi Un po' a ritardo Quel saltino lì Yes Non ce l'avrei mai fatta Nella vita Grabbarlo Però Why not Stiamo lì Fizz Preoccupa il Darius Il Darius Brutto è cattivo Vieni 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 qua Vieni Uh yeah Eh Darius è forte Riesco a prendere la prima stack di soldi Certo che riesco a prenderla Soldi Buoni sti soldi Andiamo subito a prendere la Stormraiser Buoni soldi ragazzi Buoni soldi Vai Eccola qua BF E via Fieri gasmin chat ragazzi Gra Già lo sapete Non c'è neanche bisogno che ve lo dica Ormai avete capito Come funziona Ormai avete capito Posso avere uno spam Ah no Adesso no Allora Regola Quando faccio le kill di ulti Quando faccio le kill di ulti Get catapulted in chat Voglio Voglio vedere uno spam di get catapulted in chat Per ogni kill di ulti Capito? Hai capito tu? Ah oh Sto parlando con te Infatti che potrei killarlo con l'ulti ignite Però dai Non mi sembrava corretto E digli che venga in midline Che vuol fare? Get catapulted in chat Get catapulted in chat Porca puttana Get catapulted Get catapulted Porca puttana Scommetto che stavate già spammando Get catapulted Nel momento in cui avete visto Kane venire Per darmi la double kill Get catapulted ragazzi Porca puttana Se li ho catapultati Mamma mia Grazie dello suo Guarda lì quanti Get catapulted Porca puttana Devastati Disintegrati Mi prendo questo Molto volentieri Poi ci prendiamo anche Dov'è? Questo E poi tiriamo dritto in midline Mò con lo stormerizzo Lui C'ha un cristallo di mana Io c'ho uno stormerizzo Adesso vedi Ti faccio il culo a forma di oblò di un aereo Cazzo Il top come va Iaso Beh Iaso Oh però sta outfarmando Venga 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 lei Lo foco alle tende Non lo so Anche se non le ho le tende Lo foco alle tende Cazzo Quanti danni fa la mia W Regà ma quanto è cattiva L'attacco Il critico di Proprio lo carica Incazzato nero Oddio Oddio quel danno Ragazzi preparate i get catapulted Preparate i get catapulted Eeeh Però non è questa Non era una kill di ulti Non è proprio da get catapulted Ma io tiro dritto in mid Vai affanculo Ma io vado a prendere questa Vado a prendere i soldi Va bene anche così ragazzi L'importante è il messaggio L'importante è che get catapulted Faccia capire Mandi un messaggio Te Che cazzo vuoi Fammi prendere i soldi Eeeh 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 Get catapulted Get catapulted Ragazzi Si Aaaaaah No aspettate Wait a minute Ecco Get catapulted Ragazzi Porca puttana Oh Cazzo Cazzo di scarpe Mi faccio Ma mi faccio Queste Vaffanculo Vaffanculo Le difese a me Non interessano Aaaaaah Brocca 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 Attenzione 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 Per la purtroppo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Vaffanculo 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 Eeeh Get catapulted Get catapulted in chat Per favore Vai 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 Tira giù tutto Tira giù tutto Dai a me sta merda Vai a tenere affanculo Te Vai Back Bella Dario Mi sta piacendo questo spam di get catapulted ragazzi Io tiro dritto Cioè io ho già aperto tutta la mid e siamo ancora a 12 minuti qua Eh Te hai rotto il cazzo Lascia che te lo dite Ok Ha giampato Raga Qualcuno ha detto get catapulted per caso Ilunga O N A T H A N 22 100 Dai tira la Q No Billy secondo mi passava Figlio di puttana Tiravo quella Q Era pentakill Pentakill no Era triple kill Se avessi tirato quella Q Unlucky Ci ho provato Baited Bella Jonathan Grazie dei cheers Grazie mille Jonathan Tocca vendermi con la corrupting Eh si mi tocca Va bene dai Facciamo per un bene maggiore Troppi cc comunque Incredibile sta cosa Ma potrei tirare dritto Top No i soldi finiscono adesso No verano tutti catapultati ragazzi Non avete proprio capito un cazzo Vedrete vedrete Ah fizza Fizza Ilunga O N A T H A N 22 Ucchere di X100 Get Catapulted Spero di aver reso l'idea Spero di aver reso l'idea Spero di aver reso l'idea E non di dovremmi ripetere Minchia ma get catapulted Un botto Figli di puttana Non c'è manco a reddor A panzone de merda Puoi venire qua? Dai 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 Beh qua sacco de merda Sparisci Sì? Vuoi qualcosa te? Te n'affanculo va Ecco Easy A casa Dai via Al prossimo Al prossimo Al prossimo game Non so neanche chi onorare Perché non ho visto nessun membro del mio team Ho tirato dritto Io ho distrutto tutto Porca puttana Sto Darius Middelen Che cosa è bella Bell'universo Tra tre mesi si sgomberà Basta Vai a fare ronda Minchia Ero letteralmente Un treno Che In Middelen c'era un treno Che tirava dritto Senza fermarsi Ero letteralmente